In zona San Paolo a Cervetri c'è una struttura, fino a pochi anni fa un ristorante, che a causa di sversamenti di liquami è rimasto invenduto, con un danno pesante per i proprietari. La signora Bruna ne ha denunciato il fatto, ma senza alcun esito. Dopo cinque anni siamo riusciti ad ottenere dal sindaco Elena Cubetti una ordinanza che ordinava la chiusura di questo scarico abusivo. E' stata emessa il 4 agosto del 2023, ma tutt'oggi ancora i signori, perché sono due, la proprietaria più il compagno, continuano a scaricare le acque refluo e tutto quello che si può gettare in uno scarico, solo che va a finire nel mio terreno. Ormai saturo e c'è anche un brutto odore. Dunque non ci sono più acquirenti intenzionati ad acquistare la struttura. Chiedo che venga fatta rispettare l'ordinanza del sindaco, che è stata emessa un anno fa. Questo scarico abusivo deve essere chiuso. E quindi è una cosa lecita. Per i danni, per le morali, ci sono altre strade. Io chiedo che il sindaco Elena Cubetti ha emesso un'ordinanza giusta un anno fa, che la facesse rispettare e venissero a chiudere questo scarico abusivo. Che valore avete perso fino ad ora? Allora, intanto cinque anni d'affitto e l'affittuario pagava 2.800 euro al mese. E più il deterioramento del locale, io penso all'incirca sugli 800.000 euro in cinque anni. Grazie. Grazie. Grazie.